Mettete in piedi, girando in suo fianco, marico leggermente, ispirò, ispirò, lascio cadere giù completamente, ispirò, sollevò, sollevò le braccia e scendo, sollevò, e scendo, appoggio la gamba destra, il petto sulla gamba destra, le mani a terra, la nuca rilassata, stendo la gamba sinistra, tengo la posizione. Con la mano destra prenderò la mani via sinistra. appoggio, ispiro, tengo leggermente di mare canto, sollevò, scendo, facciamo lo stesso e lascio la loro dalla parte opposta. Con la mano sinistra prendo l'avant-piede destro. centro, cambro completamente, mi lascio il camere giù. centro, cambro completamente, mi lascio il gamba. 족or, cambro completamente, mi lascio il camere giù. centro, cambro completamente, mi lascio il camere al gamba. centro. 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 Grazie per la visione!